Con la nuova soluzione in fibra ottica Wideband Fracarro, l'impianto FTTH si semplifica, perché i cavi coassiali necessari alla ricezione dei segnali satellitari vengono dimezzati. È sufficiente connettere il ricevitore al trasmettitore per avere in distribuzione l'intero segnale del satellite prescelto. Questa soluzione è compatibile con televisori e decoder tradizionali, in tecnologia SCD2, SCR e legacy. Il trasmettitore ottico Wideband Fracarro permette di conoscere immediatamente lo stato dei segnali in ingresso, grazie ai LED diagnostici. Quando il segnale è nel range operativo, i LED verdi sono accesi. Nel caso in cui il segnale abbia un valore maggiore di 85 dBmV, il LED lampeggia velocemente. Se il segnale in ingresso è assente o ha un valore inferiore a 60 dBmV per traspondere, il LED lampeggia lentamente. Il ricevitore ottico Wideband Fracarro è dotato del sistema di monitoria del segnale ottico in ingresso. Il LED verde indica che il segnale è nel corretto range operativo. Quello arancione indica che il segnale ottico è assente o inferiore a meno 15 dBm. Mentre quello rosso segnala una potenza ottica eccessiva, maggiore di meno 5 dBm. Mentre il segnale ottico è stato in ingresso per il segnale. Mentre il segnale ottico è stato in ingresso, maggiore di più è stato in ingresso. Grazie a tutti